Cosimo Mimmo Cavallo, presidente dello XAIN, che è un ente di promozione del CONI, avete collaborato attivamente e vivamente alla realizzazione di queste manifestazioni, di questi eventi sportivi per la 48esima edizione del torneo dei Rioni di Leporano in onore del santo patrono, appunto Sant'Emidio. Un grande lavoro certamente alle spalle, questa è la serata finale, ma ripeto, alle spalle c'è un gran lavoro di organizzazione e poi molto bello il contatto umano di questa sera. Infatti sono stati tre mesi di lavoro intenso da organizzare con questa grande manifestazione, i partecipanti erano circa 300, tra basket, pallavolo e calcio. Quindi siamo stati abbastanza impegnati molto per questa grande manifestazione ed è riuscito nei migliori dei modi. Un Leporano che sente molto lo sport, che lo pratica e così si fa anche aggregazione sociale, si sta insieme, si valorizzano i valori dello sport. Infatti lo sport dovrebbe avvicinare tutti l'età, diciamo, tra i bambini e gli adulti per stare insieme, per socializzare, per fare formazione, insomma. Questo in realtà è l'ente che lo richiede proprio per fare formazione sportiva e aggregazione con tutti quanti, di stare insieme, di vivere insieme, in armonia, insomma. Questo è il nostro obiettivo dell'Oxain, insomma. Questo è il nostro obiettivo dell'Oxain, insomma.